Tutto questo è andato completamente a caso Dalla mia risposta a una stories di Giorgio Dove sponsorizzavo il suo evento che si darà domani a Livigno Dove tipo ho detto semplicemente che figata Lui poi l'ho presa sul serio e mi fa Dai Klaus domani sono di passaggio da Milano Una gara simpatica se vuoi Ti porto con me su dai che ci divertiamo E io come sempre Ho detto è certo Dai E poi niente siamo pronti per questo nuovo weekend in montagna Questa volta a Livigno con Giorgio Rocca Che hit ragazzi Ammazza Caffè Ad oggi tu Giorgio cos'è che fai nella tua vita Quando posso scio Mi organizzo con l'ufficio Tu c'hai anche la tua scuola di scio Insieme a San Moris e a Livigno E quindi in realtà Ho tanto da fare lì Però mi devo dire che mi sono organizzato Finalmente bene Perché dopo che ho fatto l'atleta Mi sono riorganizzato Ma ho fatto tanto ufficio Adesso sono due stagioni che mi diverto Siamo a Borbio? Borbio Quella era Stelvio di Borbio Due medaglie mondiali Sottoscritto di tanto tempo fa Però 15 anni fa L'alom e Combinata Che è la somma del tempo in discesa Libera Ecco la cosa incredibile di Livigno E' che differenza delle qualità Che siano molto più in alto Qua l'inverno dura fino a maggio Anche di più I pianti chiudono Ma la neve C'era ancora Per sciare fino a fine maggio Tranquillamente Come stai? Allora Tutto bene? Bene Dai dai Fermi un secondo No 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 Dai Vieni dai Metti prima Ci stanno aspettando No Siamo in ritardo Ok dai Siamo arrivati a Livigno Che bella l'accoglienza qua Grazie Vedi che stanzetta Tiè Fa punti più che la montagna Questa è quella che vuol esco di più Tra Stavaggio c'è il bagno E qua c'è anche il balconicero Con vista Sul centro di Livigno Sì Che spettacolo In tutto questo Quasi sono fatte quasi le otto Da Milano ci abbiamo messo circa 3 ore e 20 per arrivare Sì niente E adesso facciamo un bel giro qua per Livigno E poi andiamo a mangiare Che cose mangiare bene C'è da dire che i posti in montagna ragazzi Sono tutti belli Nel senso che se vuoi divertirsi Comunque in moto Tova dovunque Però boh ragazzi Livigno è un'altra cosa Per chi ama lo sport Questo qua è veramente il paradiso Perché qua la stagione suisse Che inizia novembre Che finisce a maggio Ci stanno veramente un botto Le cose da fare Infatti qua vale la pena venire Se magari stanno due o tre giorni Sì niente 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 Coincidenza Arrivato Buona cena Buonasera Buonasera Cosa mi consiglio Di tipico Di secondo Facciamo un bel carri di Daniello Va bene Mi fido Ok Grazie 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 La scena è finita Increibile però After party La gara di domani Mi sa che la guardiamo e basta Buonasnocious Questa è una gran bella giornata Buongiorno Dici ciao Ciao Bene Il sveglio è stato un po' Dramatico Tu lo prendi Te lo metti in mezzo alle gambe Poi ti metti in posizione E parto Casca o non casca Vabbè sto in piedi verrà Stai abbastanza avanti E' appoggiato sul peso Sull'avanti Purga Passa frenare è difficilissimo Poi dopo questo riscaldamento muscolare Su queste bicicletta da montagna Ci spostiamo dall'altra parte Sul motorino Dove si terrà la slope challenge La gara di George Rorca E dove noi naturalmente parteciveremo Ah già ma è un problema se ti dicessi che non ho mai fatto una gara in vita mia Mai Mai Zero Zero E' la prima volta che metto un paio di sci così tecnici Questa gara come funziona? C'è una linea di partenza Al via tutti corrono Fanno 100 metri di corsa Mettono gli sci Poi c'è Una pista fatta tipo un border cross E chi prima arriva Vince Quali sono le regole quindi? Non ce ne sono di regole La correttezza e la base di chi 3 2 1 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 13 12 14 15 15 16 16 17 16 16 18 18 Grazie a tutti. Che merda è lì? Non ci credo. Ha vinto lui? No, no, ha vinto... Il secondo non era palido, non era in gara. Ho vinto io, quindi. Veramente. Secondo posto, Stefano Barone. Questo è il primo primo, il primo posto. Siamo pronti? Surreato. Signore, al primo posto abbiamo... Louis Klaus! Bravissima! Un applauso ragazzi! Questa non l'hai mai fatta. Dai, dai, dai! Dai, dai! Il caso della vita ragazzi! Spontra la presaula! Mi devi portare a fare un'altra esperienza figa! Io vedo che tu vai sempre in elicottero! Te l'avevo promesso! Eh! Dato che hai vinto, magari domani... Ragazzi! Possiamo farcela! Dai! 50.000 like, faremo anche il video... E li riscriviamo! Che figato! Oggi ragazzi, più che mai, viva la vita! Non ho veramente parole per riscrivere quello che sto provando. Poi vabbè, logico, non è il campionato mondiale, non è una gara importante, nulla. È una gara per divertirsi. Però comunque c'è la Giorgio Rocca, che è il campionato mondiale e ha un sacco delle maestri. Quindi, insomma, nonostante io comunque tecnicamente bravo, non sono bravo, siamo riusciti a vincerla. È stato lo sprint iniziale che mi ha aiutato un sacco. E questo è grazie alle pellate che ho fatto di recente. Non mi voglio mettere a piagno, non voglio neanche fare un discorso pippone sulla vita e tutto quanto. Però ragazzi, cioè, siate sempre curiosi di fare cose nuove, di fare nuove esperienze e mettetevi sempre in gioco, dovunque. Si perde un sacco, però ogni tanto si vince, come in questo caso. Viva la vita! Oggi c'è stata la gara qua, Livigno. Hai vinto? No, non tornerò a casa. Chi vinceva, vinceva la presaula. Vinte presaula stasera. Però è la presaula, ha vinto lui! È davvero! È una cosa anche assurda che può dire a me. Ho vinto la gara, sì. Ho vinto la gara, sì. Ho vinto con presaula, però. Ho vinto la presaula. Ho fatto una corsa tremenda all'inizio. Infatti, se sei stato su, ne ne facevo più. Però, da lì, tutta discesa. Non ho mai faticato questa tante vita, non sa. Non avevo più le gambe, una certa. Però, per favore, terriamo avanti, verso la presaula. Poi, si haーン diтивo, se la finture di euxì. Alla, credo, ci ha capaci. Grazie.